Salve a tutti, abbiamo finito poco fa la Commissione 5, dove all'ordine del giorno c'era l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'illustrazione di una piattaforma tecnologica turistica denominata Zonzo Fox e la valutazione su progetti del bando periferia. Per quanto riguarda l'approvazione del verbale non ci sono stati problemi, è stato approvato all'unanimità. Poi abbiamo continuato, proseguito e illustrato l'applicazione turistica, è un software italiano di promozione del territorio, con costi onestamente relativamente bassi, subito dopo siamo passati alla valutazione dei bandi periferie, dei progetti, e abbiamo soprattutto evidenziato due, non chiamiamoli problemi, ma da parte del movimento due punti da rivedere possibilmente. riguardo Palazzo Pisani a Palazzo Russo, il progetto ci sembra buono, ma la destinazione degli immobili nel movimento non ci convince tanto, quindi volemo rivedere la situazione. Detto questo, ci vediamo la prossima volta. Salute a tutti.